buongiorno a tutti siamo qui in slovacchia per l'ultimate cup series con marco bifis ciao ciao a tutti è la prima volta che tu vieni qui è la prima volta che veniamo qui come stavano molto bene siamo stati competitivi subito dall'inizio nei primi posti ciao contento anche del mio gentleman tutti e due sono andati molto bene la pista è bellissima siamo contenti di essere rientrati nella vostra serie qual è l'obiettivo arrivare alla fine sicuro e più avanti possibile grazie mille